Allora, sono stata rimproverata nel perché mi chiedono, voi, perché faccio video dove non si vede. A parte il fatto che non sono una cantante, a parte il fatto che sono a casa mia in cucina, ho un karaoke alla televisione, un microfono China, un telefono China, la televisione China, è tutto China, e io lo faccio per puro divertimento, solo per questo. Però è anche vero che mettendo il telefono in una certa posizione, là dove non mi svede, si sente molto meglio la musica e la voce, perché a volte succede, ne fai tanti, 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 io, ripeto, non ho voce, e grazie se ne faccio una, a volte magari viene benino, carina, non stonata, a volte viene una merda, e quindi devi cancellare e rifare, cancellare e rifare, a che punto non è più divertimento. Quindi, facciamo la favolunga, vi faccio contenti, sono qua, vi vedete, sono io, la rifaccio, ma molto probabilmente non verrà, perché il telefono è posizionato a me nella diversa. Ve l'avevi chiesto voi? C'è troppo, e voi ho letto. 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 C'è troppo, e voi ho letto.